La struzione che hanno imparato sono tutti grulli. Sono sempre più grulli? Sempre, la colpa è notte. Quegli piccini poi ci malediscano. Questa cinesia non stai con la nonna. No, questa insomma. Anche di 40-50. Tu li butti su di fuoco e scappa. Non brucia neanche, mi dico io. E la persona che come la pianta, sentono pieghe dal piccino, quando è grande la si stronca. E' un po' lavorare, perché non ha capito che come in mondo, che ha visto sotto rosa. E' come il prete che predica e poi va a rubare. Poi anche loro sono sempre trovato la mese. Io ho poveri. Con quella cassetta sempre se la vattano i vidi, così sempre a cercare, a cercare. Che vattevano dei più riconosciuti. Ma che calpite voi? Sempre dai poveri. Sempre da quello più piccino. Perché il Dio e il prese Gesù gli dette il pane e il vino. E voi per buc'altro mangiate rostri e bese. E noi riuscitevamo a trovare quella. Ma come si farebbe? Bene, c'era il bicchiere e lo pulisce. Via via. No, un maschio è troppo impiato. Allora che la predica che il Dio si faceva la patria, qua non era bisognova meglio. Perché se lei aveva dato a bere a tutti, diceva che faceva il santo. Doveva un po' per sé e gli va a trovare. No, no, no. Cosa è un po' per sé e gli va a trovare. ah bellissimo questo strano è una signora che esce da un vaso no è un uomo questo ragazzo scusa si è un maschio è un uomo e com'è che lo fai uscire da questo vaso sembra un vaso giusto che cos'è? cosa pensavi? questo è quello delle piramidi, i decittoli, faraoni ecco faraoni, questo è un re, c'è piano di qua e non c'ho altro questo non ce ne vediamo, questo l'avevi visto? no bello questo, si questo io si, fai vedere però è una famiglia si, tre opere, questo è un re, questa è una rifinita, questa che storia c'ha? sembra un po' sciarrafico questo sarebbe, questo è la Madonna, questo è Gesù, questo è San Giuseppe e questi sono le pere e questi sono gli uomini che sono a guardare due passanti, quindi è Gesù con la mamma, la sua mamma? si, la mamma, il Gesù e... e quello è il bue? questo è la ferra insieme a questi e quei due li hai girati nel 2010? si, perché sennò mi vedono di qua ma li hai messi per coprirti dalle finestre? si, perché qui c'è lo spazio e questo è meglio da questo esce dal buio? e quell'altro nel 2006? nel 2006 vedete questo e questo chi è? sembra un cocco ma non è un cameriere ma non è un cameriere sembra un cameriere ma non è un cameriere è un cameriere questo non è un cameriere ma non è un cameriere ma non è un cameriere ma non è un territorio Grazie a tutti.